Benissimo, intanto ci ha raggiunto e sono veramente commosso il sindaco di Terzigno, ecco che vorrei appunto venisse qui. Buonasera a tutti, Mario dice di essere commosso invece io dico di essere orgoglioso perché non me ne vogliate. Io Mario me lo tengo stretto perché per me, per la mia Terzigno è davvero importante, davvero importante in questo nuovo percorso che stiamo anche facendo nella mia cittadina dove Mario non si è mai fermato, non si è mai fermato, ha dato sempre una mano importante alla mia terra e anche nei periodi più bui. Mario ha dato quel tocco in più alla cultura che io ritengo fondamentale e Mario per la mia terra sta dando tantissimo e continuerà a dare, infatti tra non molti inaugureremo il museo archeologico, il parco archeologico e c'è la grande notizia che finalmente dopo tanti anni inaugureremo il liceo e sicuramente Mario ha dato una grossa mano, non si è mai fermato e ha fatto sì che un sindaco giovane, un'amministrazione giovane come la nostra potesse finalmente raggiungere che realmente mancano ancora la nostra fantastica terra ma che presenta ancora delle problematiche. Mario era giusto essere qui presenti stasera e onorarti perché porti il nome di Terzigno in gira e sai quanto io amo Terzigno e chiunque riesce a far uscire il mio territorio in maniera così importante è giusto che io ne do il grosso merito, non mi dilungo e sicuramente ci rivedremo a Terzigno per un grande evento, un grande evento che faremo a breve e sicuramente daremo l'ustro a un nostro grande concittadino che è anche vostro, che è Maria Puzzi. Grazie.